bentornati sul mio canale dunque è passata esattamente una settimana dalla conferenza d'apertura della wwdc 2022 ormai avete un po imparato a conoscermi difficilmente io esco con un video a caldo su una conferenza poi così importante perché insomma mi prendo tutto il tempo necessario per poter un po analizzare quelli che sono stati gli annunci sto infatti testando la beta di ios 16 sto testando la beta di ipad os 16 sto provando mac os ventura sempre in versione beta e quindi avrò modo con calma di parlarvele nelle prossime settimane perché appunto voglio in qualche modo provarli sul campo questi nuovi sistemi operativi per poi raccontarveli al netto ovviamente di tutti i limiti legati alle versioni beta che chiaramente per definizione non sono versioni definitive detto questo però all'interno di questo video ho pensato di parlarvi di quella che è stata in assoluto la novità hardware più importante presentata da apple alla wwdc 2022 che è il macbook air basato sul nuovo processore m2 e per parlarvi di questo prodotto ho pensato di realizzare questa guida per aiutarvi a scegliere il nuovo il vostro nuovo macbook alla luce di quello che è stato ovviamente il rinnovamento del catalogo di apple perché non è arrivato solo il macbook air 2022 ma è arrivata anche la nuova versione del macbook pro 13 che devo dire è rimasto a listino un po a sorpresa almeno per quanto mi riguarda e parto quindi proprio dal macbook pro 13 m2 che appunto il nuovo la nuova versione presentata da apple perché secondo me questo è in questo momento il macbook meno sensato da acquistare non perché non sia un prodotto valido intendiamoci sarà certamente un prodotto validissimo e anzi avrò probabilmente possibilità di testarlo nelle prossime settimane ma lo ritengo il prodotto meno sensato da acquistare il macbook meno sensato da acquistare perché in qualche modo non riesce a rivolgersi ad un'utenza specifica e quindi da una parte pesta un po i piedi al macbook air dall'altra parte pesta un po i piedi al macbook pro da 14 e quindi questa sorta di modello ibrido che appunto secondo me ha poco senso acquistare ora che cos'è questo macbook pro 13 con m2 da un punto di vista estetico è rimasto identico al macbook pro 13 m1 quindi stessa scocca addirittura anche con la touch bar e qui trovo sinceramente un po di incoerenza da parte di apple perché insomma la touch bar è stata eliminata dagli altri modelli di macbook pro e quindi non capisco come mai continui ancora esserci sul macbook pro da 13 che appunto proprio per questa ragione insomma mi aspettavo che uscisse dal dal listino e quindi è lo stesso macbook pro 13 m1 a cui apple ha aggiunto il nuovo processore m2 quindi non c'è il magsafe non c'è il notch per cui c'è ancora la vecchia webcam che era un po uno degli elementi peggiori dei macbook degli ultimi anni e quindi insomma da un punto di vista estetico è quel prodotto lì e ovviamente a bordo c'è l'M2 che certamente rappresenta un miglioramento rispetto all'M1 ma non stiamo parlando di una rivoluzione gli M1 avevano in qualche modo già riscritto gli standard del settore specie in relazione ai notebook basati su processori ARM e quindi era impensabile che apple riuscisse ancora a dare uno scalino in termini percentuali insomma è un processore che sicuramente migliora l'M1 soprattutto da un punto di vista grafico ma stiamo parlando di un miglioramento come dire davvero marginale non mi aspetto sinceramente un miglioramento impressionante delle prestazioni il vero problema però del macbook pro 13 m2 quale è che la versione base quindi quella da 8 giga di ram e 256 giga di memoria è stata posizionata a 1629 euro ora capite bene trattandosi di un macbook pro questo è un prodotto che di regola dovrebbe essere acquistato da persone pro quindi da persone professioniste e magari sono interessate al montaggio video all'editing fotografico perché poi lui con l'M2 è certamente in grado di gestire queste operazioni più complesse ed è ovvio che questa versione con appena 8 giga di ram e appena soprattutto 256 giga di memoria è sinceramente troppo castrata per cui bisognerebbe perlomeno salire a 512 giga di ssd e quindi il prezzo in questo caso lievita 1859 euro e se poi si vuole arrivare a 16 giga di ram si toccano i 2089 euro praticamente meno con poco più con poco meno anzi di 300 euro riuscite ad acquistare la versione base del macbook pro da 14 con 16 giga di ram 512 giga di ssd processore m1 pro è ovviamente con tutte le novità estetiche che poi si riflettono anche da un punto di vista tecnico annunciate all'epoca da apple perché il pro 14 ha la nuova webcam ha un display migliorato al mac safe quindi insomma capite bene come con queste cifre con queste configurazioni sinceramente io faccio fatica per quei professionisti che hanno bisogno di potenza in mobilità e che non necessitano di uno schermo particolarmente grande beh faccio fatica sinceramente a consigliare il macbook pro da 13 il mio consiglio è di far riferimento al macbook pro da 14 che per altro poi può essere comunque configurato si ci si può spingere fino ai 32 giga di ram insomma l'abbiamo lo conoscete molto bene per cui insomma tutti coloro interessati alla produttività e mobilità senza avere la necessità di uno schermo particolarmente grande io credo che il prodotto a cui fa riferimento sia il macbook pro da 14 chiaramente produttività e mobilità di operazioni complesse montaggio video editing fotografico insomma lo dicevo poco fa fra l'altro il macbook pro da 14 la mia macchina principale l'ho acquistata a novembre del 2021 e magari non appena compirò il primo anno in sua compagnia avrò un modo di parlarvene in un video proprio così da potervi dare insomma una panoramica complessiva di quelle che sono le mie opinioni su una macchina che effettivamente mi avrà accompagnato per un anno intero di lavoro tutti i giorni ovviamente tutti gli utenti che hanno le medesime esigenze in termini di produttività ma necessitano di uno schermo più grande anche a discapito della trasportabilità beh ovviamente c'è il macbook pro da 16 pollici con le m1 pro le m1 max anche lì dipende dalle configurazioni e insomma quella è una macchina perfetta per quella nicchia di utenti e questo è un po spiegato il perché ritengo il macbook pro 13 m2 sinceramente una macchina poco poco sensata da acquistare anche perché per tutti coloro invece che necessitano di tanta trasportabilità ma vogliono fermarsi a una produttività normale e quindi produttività via browser scrittura perché no utilizzo anche in ambito personale come può essere la frizione dei contenuti multimediali beh per tutte queste persone c'è senza dubbio il macbook air m2 perché dico l'air m2 perché apple ha lasciato a listino il macbook air m1 nella configurazione con 8 gb di ram 256 gb di memoria e lo ha posizionato a 1229 euro qual è però il problema di questo prodotto con circa 300 euro in più anzi esattamente 300 euro in più quindi 1529 euro voi vi portate a casa il macbook air m2 sempre con 8 gb di ram e 256 gb di memoria che però ha il vantaggio di avere il nuovo design di essere più leggero di avere a disposizione il notch e quindi anche la nuova webcam di avere il mag save e ovviamente di avere a disposizione l m2 che al di là come dire delle poche differenze comunque un miglioramento rispetto all m1 lo offre questi 300 euro di differenza peraltro per quanto riguarda lo street price in realtà stanno già diminuendo perché amazon già propone il macbook air m2 con 100 euro di sconto per cui quei 300 si trasformano in questo momento in 200 euro di differenza e insomma con questa come dire questo range così limitato anche qui faccio fatica a consigliare il macbook air m1 a tutti coloro che in qualche modo hanno bisogno di una produttività normale di un computer normale studenti universitari lavoratori insomma da ufficio normalissimi proprio perché insomma con appena in questo momento 200 euro in più vi portate a casa il modello aggiornato l'errore di apple secondo me questa è davvero un'occasione mancata per l'azienda di cupertino e sta nel fatto di non aver puntato sul macbook air m1 nella variante da 128 giga anziché quella da 256 perché perché se fosse riuscita a posizionare quella variante sotto la soglia psicologica dei 1000 euro magari a 999 euro e quindi poi sarebbe stato oggetto di offerte nei vari store per cui probabilmente sarebbe scesa anche sotto i 900 belli avremmo avuto davvero un best seller perfetto per tutti coloro che magari sognavano un mac o avevano la necessità di un mac ma magari non avevano il budget per poter da investire necessario per il computer apple ecco con quella macchina apple sarebbe andata davvero a colpire una fascia grandissima di clientela e probabilmente il macbook air si sarebbe trasformato nella macchina più venduta dei prossimi 12 mesi apple invece ha deciso così e anche qui faccio lo stesso ragionamento del macbook pro 13 c'è poco troppo poca differenza rispetto al modello più recente quindi il mio consiglio è di fare riferimento al macbook air m2 macbook air m2 che sinceramente non vedo molto sensato configurare con specifiche migliori al massimo ci si può spingere nell'aumentare l'ssd e quindi nel passare da 256 a 512 gigabyte ma non andrei oltre perché aumentando la ram continuando ad aumentare l'ssd a quel punto ci si avvicina davvero troppo al prezzo dei pro è a quel punto tanto vale far riferimento al mac ai macbook pro quindi questo è dal mio punto di vista oggi il catalogo dei macbook di apple e questi sono i miei consigli per gli acquisti ovviamente vi inserisco in descrizione i link all'acquisto dei macbook almeno quelli che sono secondo me i modelli più sensati come sempre trovate il link anche alla mia banca amazon che piano piano sto rimpolpando anche rispetto a quella che è la programmazione sul canale ovviamente avremo modo poi di chiacchierare in maniera più approfondita su questo macbook air ma anche qui insomma ritenevo inutile ripetermi rispetto ad alcuni colleghi bravissimi che peraltro stimo alle testate giornalistiche che vi hanno già parlato a più riprese del macbook air nuovo m2 ci tenevo invece a darvi questi consigli in fase d'acquisto perché insomma credo che tantissimi stessero aspettando la wwc 2022 per avere un quadro un po più chiaro e procedere con l'acquisto del macbook e spero insomma che questo video possa esservi utile bene io per oggi ho concluso fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo nei prossimi giorni